Il sottoscritto assieme a chi sta riprendendo oggi i lavori e assieme ad altri compagni consulenti tecnici e assieme anche all'avvocato Agagliate, il 4 di questo mese, su richiesta fatta formalmente al Tribunale, siamo entrati a fare un sopraluogo per capire esattamente come stavano le cose. Allora noi abbiamo che in questa linea 5 dove è venuta la strage di questi sette operai non c'è nemmeno un piano di sicurezza, cioè è una linea lunga centinaia di metri dove è un unico capannone, sono delle campate una vicina all'altra, l'ultima è la 5, prima c'è la 4 eccetera. La seconda cosa, questo capannone è chiuso da due portoni, queste due grosse saracinesche sono azionate elettricamente, in questo capannone non c'era un sistema ausiliario di energia elettrica, per cui nell'incendio sono fusi i cavi, le porte sono rimaste chiuse, non si potevano aprire. In questo capannone si entrava con i camion per scaricare i coils, che sono quelle grosse bobine di nastro d'acciaio che pesano 3-5 tonnellate l'una, bisognava entrare con l'autotreno a retromarcia, perché se entravi col muso non uscivi più, a retromarcia in una banchina che sarà stata come da qui a quel muro lì, e rispetto al piano di lavoro c'era un gradino di 10 centimetri, tutto impregnato di olio, di grassi, di lira di Dio, e in questa situazione qui c'erano dei cartelli, guardate voi, c'erano dei cartelli che mi ricordavano quando c'era Lempi, dopo la guerra, tutti i roti dove non si diceva niente, e dove l'unico accenno che si ricavava è che bisognava stare attento a questo camion che faceva la retromarcia o mettere le scarpe di sicurezza. Sulla linea ci sono tutta una serie di cose incredibili, la sala quadri che è un obbrobrio, è un, scusate come dico da Milano, un gabanotto con profilati d'alluminio, una cosa di uno squallore infame, con 5 telecamere antidiluviane, che riprendevano alcune posizioni di questa linea, con computer, una devastazione più che, ecco, ma c'è di più, dietro a questa linea, cioè verso il muro, ci sono degli spazi che saranno, a secondo del tratto di linea, arrivano anche a 60 centimetri, con tubi, per cui io, lei ed altri dovevamo abbassarci per passare sotto, scale senza nemmeno il corrimano, strette, tutto pieno di grasso. Tutto questo avviene su tre piani, piano terra, primo piano, secondo piano, e tutta la forza lavoro di questo capannone, che sarà a 500-600 metri, lo sviluppo di questa linea, sia dall'ingresso dove scaricano e caricano i coil già trattati, sia fino all'uscita, e c'erano 5 persone e quella notte ce n'erano 7, se non vado errato, dei quali, di questi 7, uno era Manzo, che era un capoturno, che ormai era il capoturno di tutto lo stabilimento, non della linea 5, perché avevano ridotto gli organici, quindi anche da questo punto di vista. E poi cose indescrivibili, lì non è mai stata fatta nessuna, ma nessuna seria indagine, valutazione, né da parte sindacale, né da parte ASL, né da parte di chi volete voi, guardate. Voi vedete, tuttora, questo nastro che arrivava dalla linea 4 per essere finito, aveva, diciamo, fra una falda e l'altra, una carta, che, diciamo così, era impregnata, perché durante la laminazione ci sono gli oli di laminazione, era impregnata di questi oli. Questa carta, a seconda di come il nastro veniva lasciato a riposo, nel senso, quando usciva dalla linea di laminazione aveva ancora una temperatura di 80-90 gradi, no? O anche più, dipende dal tempo, no? Ecco, quando i tempi fra l'uscita dalla linea 4 e l'immissione sulla linea 5 erano brevi, e quindi i nastri di acciaio erano caldi, l'olio di laminazione, diciamo, crechizza, per chi ha qualche cognizione fisico-chimica, crechizza, cioè forma come se fosse un collante, un'interfaccia, fa l'acciaio e la carta. Per cui, all'inizio, quando si infila questo nastro, l'operaio deve andare a mano, non a mano, non con le macchine, a mano, a togliere le prime falde di carta, avvolgerle su un altro rullo e quando non riesce, perché è crechizzato, è incollato, chiamatelo come volete voi, allora il dioproduzione non può fermarsi e quindi avanti, così con sulla carta, tanto poi arriverà dopo qualche centinaia di metri davanti alla bocca di un forno, no? E quindi brucia, no? Questa è la... e se voi andate là ancora adesso, voi vedete lungo tutta la linea che ci sono giù carte di tutti i tipi, sui rulli di trascinamento del nastro, ai bordi, ci sono proprio dei... come delle bobine di carta, no? E quindi carta e olio, voi sapete che sono dei materiali, delle sostanze combustibili, no? Aggiungasi che il nastro che viene infilato, diciamo così, all'inizio della linea, non è che viene centrato con un sistema automatico, ma c'è l'operaio che con dei pulsanti, a occhio, lui c'ha davanti il cilindro, scusate, uso le mani per farmi capire, davanti il cilindro, il cilindro ha una certa luce, il nastro è meno, no? Allora lui cerca di lasciare uno spazio a destra e a sinistra, centrando questo nastro d'acciaio che poi si incammina. Ma questo nastro d'acciaio non è tagliato con il laser, per cui i bordi sono perfetti, per cui la sua superficie è planare, perfetta, perché quando arriva dalla laminazione, i cilindri, vuoi anche perché si tratta di impianti vecchi, eccetera, schiacciano sulla tangente del cilindro in modo diverso, quindi tu hai anche delle variazioni piccole di spessore, che però sulle centinaia di metri ti portano fuori il nastro rispetto alla tua centratura manuale, te lo portano fuori e te lo fanno sfregare su che cosa? Su l'incastellatura, su queste travi d'acciaio, quindi acciaio che sfrega contro acciaio, si formano scintille, si formano scorie incandescenti che cadono, e tant'è che su queste incastellature ci sono proprio i segni di questo acciaio che ha tagliato gli spigoli delle putrelle, dei ferraù, eccetera, e ci sono sotto proprio come dei cumuli di residui metallici dovuti a questi sfregamenti. In questo contesto c'erano delle perdite enormi di olio, no? Olio di tutti questi sistemi di oliodinamici, eccetera, per cui l'olio era quotidianamente sotto queste situazioni, e quindi cadendo queste scorie hanno innescato un incendio, hanno innescato un incendio che poi è l'incendio che ha causato la strage. Due cose ancora, il telefono per l'emergenza era da un mese fuori uso, per cui non poteva funzionare, in più, tenete presente gli estintori dell'antincendio, erano alcuni vuoti, come si chiama, la linea per l'acqua antincendio, non c'era pressione sufficiente, era giuncora per terra quando siamo andati da noi, no? E via di questo passo, no? Quindi Boccuzzi ci ha salvato perché in questo tratto lui si trovava dietro a un muletto, no? Che è là ancora, l'abbiamo fotografato, e quindi la fiamma, la nube e quindi l'incendio è stato protetto da questo muletto e è riuscito a salvarsi. Grazie a tutti.